È una rappresentanza di bambini e ragazzi di scuola primaria e scuola media che hanno partecipato nel corso dell'anno al nostro corso responsabili studenti sicurezza. Quindi hanno affrontato come fronteggiare il rischio alluvione sismico. Quali sono ad esempio questi messaggi che volete trasmettere? È utile abbellire le scuole, è fondamentale farlo, ma solo se prima sono state messe in sicurezza. Almeno una scuola su tre, parliamo complessivamente di 41.000 e più, quasi 42.000 edifici scolastici. Un terzo di essi hanno sicuramente un problema legato alla sismicità e due terzi invece problemi di manutenzione. Noi chiediamo che il piano Scuole Belle venga riconvertito. Abbiamo registrato negli ultimi due mesi quasi dieci episodi di crolli d'intonaco, di stacchi, di controsoffitti, di solai, di cornicioni. Allora non si può dire che il problema è risolto con questo piano. Quindi quello che chiediamo è che Scuole Belle venga messa un po' da parte e si aumentino gli investimenti e gli interventi sulle scuole sicure e sulle scuole nuove. Uno, due, tre! Scuole Belle sicure!